Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vogliamo parlare di questo prodottino qua che non è nient'altro che un microfono USB Si ma ho detto così, ho detto ah vabbè, chissà quanti ce n'ho E no, è della Twinkly Music seconda generazione Questo vuol dire in poche parole che se avete tutte le strisce a led In forma di tenda, quelle addosso all'albero, quelle da mettere di fuori Tutte quante le strisce, le luci a led di questa marca qua Tutte di seconda generazione in poi, quelle di prima no Praticamente voi collegate questa chiavetta USB a una qualsiasi presa di corrente classica 5V 1A quindi vi dovete procurare voi un adattatorino Io per far prima faccio con questo powerbank però è la stessa cosa E siete pronti a creare un'atmosfera 2.0 nella vostra casa Una specie di discoteca perché voi mettete una musica Lui con questo microfono qua, qui c'è il microfono ad alta sensibilità con gli algoritmi che solo Twinkly sa fare Riesce a capire tutte le note e a riprodurre e a convertirle in led E quindi fa un gioco di luce di tutte quante le luci che avete in casa Per esempio adesso dopo ve lo faccio vedere con la tenda che ho montato pochi giorni fa Tra poco farò l'albero, metterò le luci attorno all'albero e si sincronizzano le luci con la musica Sia quelle addosso all'albero che quelle che ho montato addosso alla tenda Questa è la pennetta, niente di particolare Alla USB, consuma 2,5W quindi praticamente niente Il tasto poi per cambiare effetti Qui tutto il microfono sensibile Poi qua c'è un led che a seconda del colore che si accenderà ha una funzione particolare Adesso tutti i colori non mi ricordo a memoria, se li volete sapere velocemente Lampeggio verde acceso ma non è connesso Quindi comunque funzionante ma non connesso Blu fisso, modalità Wi-Fi connessa Quindi siamo già a un buon punto Lampeggio blu si sta collegando alla vostra rete Wi-Fi Se lampeggia rosso c'è qualcosa che non va Quindi magari avete sbagliato la password o è troppo lontana dalla rete Wi-Fi O c'è comunque qualche problema Soltanto le reti casalinghe Così possiamo dire, le reti quelle da ufficio o da tel potrebbe non essere supportata Quindi non ve lo consiglio Tutte quante le luci, vi ricordo, devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi Se no c'è qualche incompatibilità e non sono sincronizzate tutte quante Se si accende di giallo c'è un aggiornamento che è in corso Quindi sta facendo un aggiornamento firmware Rosso fisso c'è qualche errore Lampeggio bianco e bianco fisso vuol dire che state facendo la procedura di reset E io è proprio qui che vi voglio perché prima di farvi vedere il prodotto in funzione e prima del collegamento Visto che l'ho già provato e funziona tutto E ho anche aggiornato il film e adesso dovremmo stare alla versione 1.0.1 Era uscito con la versione 0.1 Spero di ricordarmi bene i numeri Comunque è l'ultima versione disponibile oggi che è primo dicembre 2020 Cosa ho da fare? La procedura di reset Prima ancora di presentarvelo bene il prodotto Per fare la procedura di reset cosa bisogna fare? Teniamo premuto il pulsante Lo colleghiamo a una qualsiasi presa elettrica Va bene un powerbank Una presa del USB del computer Qualsiasi Teniamo sempre premuto Sta lampeggiando di bianco Vedete sta facendo la procedura di reset Bianco fisso Procedura di reset effettuata Possiamo lasciare il dito A questo punto Sta lampeggiando di rosso Sta lampeggiando di verde E cosa vi ho detto io col verde Che cosa era il verde lampeggiante? Acceso Non connesso In pratica Così acceso non connesso È quando lo aprite per la prima volta Dal prodotto sigillato Venite da questo lato Faccio vedere più da vicino anche tramite l'app Come si fa la configurazione iniziale E poi ci andiamo a divertire Facendovi ascoltare qualche musica E facendovi vedere qualche effetto luminoso Eccoci qua ci siamo Allora la prima cosa Colleghiamo a corrente Perfetto Lampeggia Intanto ve lo faccio vedere un po' più da vicino Questa pennetta Così Questo è tutto il microfono sensibile E questo è il retro Apriamo l'app Andiamo qua su dispositivi Come vedete io l'avevo già impostata La versione simile ricordavo bene 1.0.1 Ma adesso lo andrò a fare di nuovo L'accoppiamento E quindi per andare a fare l'accoppiamento Quindi direi che c'è un nuovo dispositivo Dobbiamo tenere premuto il tasto 5 secondi Dopo aver premuto per 5 secondi La luce lampeggerà di blu Andiamo qua su aggiungi dispositivo E aspettiamo che il telefono lo trova Se non lo trova subito Andiamo qua Su Twinkly Music Perfetto Vedete l'ha trovato Dopo qualche secondo Ti dice di connettere a una rete wifi di casa Le stesse dove avete connesso le strisce Qui cambiate la rete Qui inserite la password E cliccate su connetti La connessione impiegherà qualche secondo Due secondi a me Inizia ad usare l'app Siamo pronti per usarla Vedete che prima ce l'avevo Senza il puntino verde Perché l'avevo già fatto Adesso l'ho rifatto Ed è online di nuovo Qui su impostazioni Possiamo vedere le classiche informazioni Modello Il picchio appreso La versione di firmware E cambiare volendo La rete wifi Magari se cambiamo router Spostiamo le reti E via dicendo In questo modo Si sta lampeggiando di bianco E fisso blu Con questo balbettio qua Vuol dire che siamo pronti E lei ci sta ascoltando Andiamo in salone E vediamo l'effetto che fa Ovviamente adesso Per cambiare effetto Basta premere questo tasto Per spegnere Non c'è il tasto Basta scollegare direttamente E vi faccio vedere Le luci poi riprenderanno a funzionare Normalmente Quindi con gli effetti Che avete preimpostato standard Una volta che Ricollegate Aspettate qualche secondo In automatico Lampeggerà in questo modo E troverete poi Il dispositivo funzionante Ecco qua Veramente in pochissimi secondi Ed eccoci qua Vedete che già sta funzionando 1, 2, 3 4, 5, 6 Alexa Fai partire una bella musica Ecco un'estazione famosa Topic Sport Da Musica Alexa Volume 6 Alexa Top Ma Ma cha Grazie a tutti. Grazie a tutti. E? Vedete? Va fino in fondo. Se parlo piano piano, prova 1, 2, 3, 4, 5 e basta. Se provo normale, incomincia ad aumentare. Se provo a parlare forte, fino a sopra. Però questo dipende anche dall'effetto. Effetto 1, effetto 2, questo è un altro, questo è un altro. E questo qua, secondo te, è il migliore. 1, 2, 3. Alexa, mettite la musica a natalizia. La stazione è magia di Natale, da Amazon Music. Alexa, stop! Ebbene, questo è quanto. Poi immaginatevi tutte... Alexa, stop! Poi immaginatevi, insomma, tutta la casa addobbata con queste luci e fate veramente, veramente un bel effetto. A, E, I, 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 O, U. A, E, I, O, U. Perfetto. La pennezza la volete mettere veramente da qualsiasi parte. Per esempio, adesso provo a levarla. La metto qua, che è una radio digitale. La metto qua. Ebbene, sotto sopra. Devo accenderlo. In modo tale che gli do corrente. Vedete che si sta collegando. Tempo veramente una decina di secondi massimo. Voilà, è pronta all'uso. Ok, ho premuto. E vedete anche così, in modo tale che potete tranquillamente usare altri dispositivi. Prova. Uno, due, tre. Sa, sa, sa. Prova, prova. Adesso io sto lontano. Il dispositivo è connesso là. Sono a circa tre metri di distanza. Facciamo play. Volume normale. Funziona, ovviamente, la sente come se fosse basso il volume. Aumentando di poco. Funziona alla grande. L'unico appunto, l'unico neo, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è che per spegnerlo bisogna per forza scollegare la pennetta dalla porta USB. Non c'è un interruttore on-off e neanche tramite app si può spegnere o accendere. E niente ragazzi, siamo giunti alle conclusioni finali. Che altro dirvi? Se non è il prezzo, lo trovate in circa tra i 30 e i 40 euro, in linea con ciò che offre. Non mi sento di consigliarvelo, ovviamente, se non avete nessun dispositivo, nessuna luce Twinkly di seconda generazione, perché questo da solo fondamentalmente non ha senso. Quindi, se avete almeno una striscia, allora sì, ve lo posso consigliare. Il difetto, ve l'ho detto, appunto, che manca il tasso per l'accensione e lo spegnimento. Questo qua è solo per cambiare gli effetti. Il microfono prende decisamente bene, ok. Il wifi pure, nulla da dire. Che altro dirvi ragazzi? Buon, buon prodotto. Siamo giunti alle conclusioni. Come sempre, se il video è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like. Dislike, se invece non vi è piaciuto. Vi ricordo i social, facebook, instagram, gtv, triple viso, potterino 10. Anche su Telegram, sconti e offerte, trattino, potterino 10. Ogni giorno ci sono tantissime novità riguardo i prodotti tecnologici. Ma non solo, andateci a dare un'occhiata, seguitemi e poi silenziate il canale. La sera ogni tanto vado su Twitch, sempre con il nome potterino 10. Iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Attivando la campanella in app, non perdetevi i prossimi video che usciranno sul canale. Qui, dal sottoscritto, è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao! Voto da 1,10? Un bel 7,5 ci sta tutto. Ciao!